È un problema che ci riguarda, forse magari noi siamo già un po' grandi per queste cose, forse la scuola secondaria del primo grado è più presa da questa cosa, però possiamo essere per i maestri, non possiamo essere da i maestri. Secondo me coinvolgere gli studenti in questi progetti che si distaccano dalle solite lezioni frontali è innanzitutto il miglior modo per far veramente apprendere qualcosa e poi sta alla base della scuola del futuro, secondo me. Quindi siamo carichi? Siamo carichi? Io non vedo loro scherzando, perché questa cosa deve essere così diritti e diretti meno male, ci togliete un po' di sprofio, ma i civili è quello che vi riguarda, questa cosa di continuare a interpretare è quello che vi riguarda, anche me.